Ciao a tutti, io sono Giacomo Cestari, benvenuti alle mie video lezioni di recupero digitale. Questa è la lezione 3 di Algebra, nel quale andiamo a vedere e parleremo dei monomi. Quello che stiamo facendo in queste prime tre lezioni è proprio fare un cappello introduttivo che ci permetterà poi di capire meglio come fare i calcoli e le operazioni con i monomi. È solo una parte teorica dove definiamo alcuni aspetti che poi riprenderemo un po' avanti. Allora, innanzitutto dobbiamo definire che cos'è un monomi. Il monomio è un'espressione letterale dove compaiono solo moltiplicazioni e divisioni e eventualmente parte delle lettere e delle cifre. Ad esempio, meno 3ax alla seconda, questo è un monomio. Infatti, questo monomio, se lo osserviamo, è una moltiplicazione di meno 3 che si moltiplica per a e si moltiplica per x alla seconda. Questo monomio ha una parte, che è questa parte introduttiva, che si chiama parte o coefficiente, coefficiente. Sì, è meglio chiamarlo direttamente invece che parte numerica, coefficiente. E abbiamo la parte letterale, qua. Una cosa importante che va detta sul coefficiente è che il coefficiente è formato da un segno e una cifra. Se non compare la cifra, la cifra è un 1. Cioè, se io scrivessi, ad esempio, meno abx alla terza, anche qui è una successione di moltiplicazioni, quindi abbiamo a per b per x alla terza, il coefficiente è questa parte qua. Ma non è solo il segno, perché abbiamo detto che è segno e cifra. Nel momento in cui non c'è la cifra, è come se fosse 1. Infatti, scrivere 1 per a b x alla terza è la stessa identica cosa, no? E qui, cos'è che stiamo dicendo? È 3 volte a x alla seconda, immaginiamo, abituiamoci a chiamarla proprio 3 volte questa cosa qui, quindi meno 3 volte questa cosa qui, e quindi questo è meno una volta questa cosa qui. L'1 del meno una volta viene omesso, quindi non viene omesso, perché è superfluo. Se io dovessi dire dammi abx o dammi una volta abx, è la stessa cosa, non devo specificare dammi una volta abx, dammi abx, posso non dire l'1, però quando faremo, per esempio, dei calcoli, sappiamo che questo è una volta abx. quindi questo coefficiente nel suo segno e cifra, il segno è meno, quindi è negativo, la cifra vale 1, per una volta abx. e poi abbiamo anche qua la parte letterale. Abbiamo detto che il monomio è un'espressione, abbiamo detto prima, è un'espressione letterale, nella quale compaiono solo le operazioni di moltiplicazione, divisione ed elevamento a potenza. di conseguenza vediamo alcuni monomi dove compaiono anche divisioni, ad esempio, meno 2x fratto meno 3y, oppure più ab fratto c alla seconda, o più 5 mezzi x alla seconda. Sono tutti esempi, me li sto inventando, per inventare queste cose in realtà basta mettere delle lettere e dei numeri a caso. L'importante è che ci siano solo operazioni di moltiplicazione e divisione. Nel momento in cui scrivessi, ad esempio, 2a fratto b più 3c fratto d, è vero che ho moltiplicazioni e divisioni, ma ho anche un più. Questa è un'operazione tra monomi, perché questo è un monomio, questo è un altro monomio, e con un più in mezzo io sto facendo un'operazione tra monomi, sto sommando due monomi. Questo è importante da capire perché sicuramente se dobbiamo capire come fare la somma tra due monomi dobbiamo capire fin dove è monomio e da dove comincia un altro monomio e qual è l'operazione in mezzo. Questo, allora, non è un monomio, ma sono due monomi. Monomi ne abbiamo di tutti i tipi, di tutti i colori e soprattutto per tutti i gusti. Allora, abbiamo ad esempio monomi interi o fratti e questo se le lettere compaiono solo al numeratore e hanno tutte l'esponente positivo e il monomio si dice intero altrimenti si dice fratto. di conseguenza monomi interi guardate, i monomi interi possono avere il coefficiente fratto basta che le lettere siano tutte al numeratore A B x alla seconda e questo è un monomio intero monomio un monomio fratto è quando ripeto le lettere compaiono al denominatore o hanno l'esponente negativo ad esempio 3 a x alla meno 2 questo è un monomio fratto tra un attimo vi scrivo anche perché 3 a i x alla quarta anche un monomio fratto un monomio fratto perché se l'esponente è negativo è comunque un monomio fratto andiamo a ragionare su questa parte qua voi avete imparato recentemente che se io ho un numero e lo elevo a un esponente negativo quando tolgo questo meno e risolvo questa operazione io devo invertire questo inverto la base e tolgo il meno dall'esponente se è vera questa cosa qui allora è anche vero che x alla meno 2 è 1 fratto x alla seconda e vedete che x va sotto quindi questo monomio può essere scritto o così ma anche come 3 a per 1 fratto x alla seconda e ovviamente questa cosa qui se io faccio a per 1 che fa a è 3 a fratto x alla seconda è la stessa identica cosa perché faccio a per 1 quindi a per questa cosa qui voi sapete nel calcolo delle moltiplicazioni anche dalle frazioni come avevamo visto se io ho un risultato palese come questo a preso una volta è a x alla seconda rimane sotto 3a fratto x alla seconda questo è un monomio fratto ci sembra che non lo sia perché x ci sembra che sia al numeratore ma avendo un esponente negativo va sotto e un'altra cosa importante da sapere sui monomi sono tre parole sostanzialmente ossia monomi simili monomi uguali monomi opposti sono tre tipologie di monomi i simili vuol dire che hanno la stessa parte letterale hanno la stessa parte letterale i monomi uguali sono uguali e gli opposti come i numeri opposti relativi hanno segni diversi allora vediamo di approfondire questo argomento è giusto l'ultimo l'ultimo minuto di questo video i monomi simili che hanno la stessa parte letterale ad esempio tre a due a sono monomi simili solo sapete che se metto un numero senza il segno davanti si sottintende un segno più e scrivessi meno cinque mezzi a x e un mezzo a x questi sono monomi simili perché la parte letterale è uguale e cos'è la parte letterale lo riveliamo da questo schema è sono le lettere che stanno dopo il coefficiente coefficiente che può essere segno con cifra o ad esempio solo un segno ma sappiamo che la cifra è 1 allora questi sono i monomi simili i monomi uguali sono uguali ad esempio 3x e 3x sono uguali questi sono semplicissimi anche gli opposti sono molto molto semplici perché cambia solo il segno meno cinque mezzi by y e più cinque mezzi by y questi sono monomi opposti perché stanno in modo opposto rispetto alla retta orientata e allo 0 se io dovessi calcolare il valore di questi due monomi ovviamente avessi il valore della lettera b e della lettera y e dovessi calcolare questi valori sicuramente lo 0 sarebbe in mezzo e sarebbero e si disporrebbero in modo opposto allo 0 con la stessa distanza dallo 0 che è il punto a punto centrale sui monomi possiamo vedere un'ultima cosa e l'ultima cosa che vi propongo è il grado di un monomio che cos'è il grado allora anche questo è una cosa molto molto semplice e faccio degli esempi e vediamo se lo intuite scrivo un monomio di primo grado scrivo un monomio di secondo grado scrivo un monomio di terzo grado scrivo un monomio di quarto grado scrivo un monomio di quinto grado forse l'avete già intuito il grado di un monomio è l'esponente della parte letterale d'accordo? e quindi primo grado alla prima secondo grado alla seconda terzo grado alla terza quarto grado alla quarta quinto grado alla quinta la domanda che potete farvi farmi anche è ad esempio cosa succede se avessi due lettere ad esempio 5 a alla quarta b alla terza di che grado è questo monomio? devo sommare gli esponenti delle lettere quindi 4 più 3 questo monomio di settimo grado e meno 2 a b c alla seconda che grado è questo? se io sommo tutti gli esponenti nel momento in cui non ho un esponente voi sapete che è come se ci fosse 1 1 1 più 1 più 2 fa 4 quindi questo è un monomio di quarto grado ciò che potremmo chiedere è il grado invece relativo ad una specifica lettera rispetto grado relativo rispetto ad una lettera ad esempio 3 x alla quarta y 5 x alla seconda y alla seconda 7 x y alla settima allora grado totale del monomio grado relativo alla lettera x grado relativo alla lettera y quindi posso chiedermi il grado rispetto al monomio o a una singola lettera il totale 4 più 1 fa 5 2 più 2 fa 4 7 più 1 fa 8 relativo alla lettera x è l'esponente della lettera x semplicissimo 4 questo è il 2 e questo è 1 e relativo alla lettera y questo è 1 questo è 2 e questo è 7 quindi il grado di un monomio è la somma degli esponenti di tutte le lettere che vi compaiono il grado relativo di un monomio rispetto a una lettera è l'esponente a cui quella lettera è elevata un esercizio ad esempio lasciate perdere questo scritto non c'entra niente potrebbe essere ordinami la seguente scrittura i seguenti monomi seguendo il grado della lettera x dal grado più alto al grado più basso ad esempio la scrittura potrebbe essere più 7 x y alla seconda meno 3 x alla terza y più 2 x alla seconda y alla quinta meno 5 mezzi x alla quinta y ordiniamo questa scrittura tutti questi monomi e proviamo a ordinarli partendo considerando il grado relativo alla lettera x e partendo dal grado più alto andando dal grado più basso allora qui è come se ci fosse un 1 quindi se io dovessi scrivere il grado relativo a lettera x questo è di primo grado questo è di terzo grado questo è di secondo grado questo è di quinto grado quindi se devo ordinare questo va in prima posizione meno 5 mezzi x alla quinta y questo va in seconda posizione meno 3 x alla terza y più 2 x alla seconda y alla quinta più 7 x y alla seconda vi ricordo che i monomi avendo la parte letterale e il coefficiente guardate questo discorso qua parte letterale e il coefficiente si portano dietro il loro coefficiente quindi questo è il primo monomio questo è il secondo monomio mi raccomando parte il secondo monomio dal segno questo è il terzo monomio che vi ho dato e questo è il quarto sarebbe sbagliato fare partire ad esempio il monomio da qua 5 mezzi eccetera eccetera devo tenere anche il suo segno quindi un segno coefficiente parte letterale ogni tanto posso non avere nel coefficiente la cifra se è un 1 l'1 si può omettere quindi si può anche non mettere grazie e alla prossima grazie a tutti